Bentornati ragazzi, volevo solo dirvi in questa brevissima intro che ho aperto un secondo canale dove farò delle lezioni di batteria e dei tutorial su anche delle canzoni che se volete fare scrivetemi sotto nei commenti, io ve le provo a rifare con la batteria e vediamo se vi piaceranno. Naturalmente in questo video per chi è nuovo iscriviti, lascia like, attiva la campanellina su tutte le notifiche e condividi il video con tutti i tuoi amici che sono anche loro fan di musica. Bene, detto questo io vi lascio al video e buona visione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti